Carnevale di Viareggio 1988, vediamo i carri che si godono il sole mattuchino e le maschere che si preparano per il gran corso mascherato. Il corso è iniziato e lo apre Musica e Maschere, un carro fuori concorso che sponsorizza la Lotteria Nazionale di Viareggio, realizzato da Renato Berlanti, Sergio Baroni. Non ci provare con le maschere è un'altra opera di prima categoria realizzata sempre da Renato Berlanti e Sergio Baroni. Ecco il gruppo mascherato di Rione d'Arsena che presenta Vele al Vento. Ecco un altro gruppo mascherato realizzato da Rione Croceverde. Entra la prima categoria del maestro Arnando Galli che presenta i Grandi Rischi. Chi ci indovina è bravo è la mascherata in gruppo di mazzi a Etna. Madonna Sciccone, un successo da Leone è la prima categoria di Gilbert Le Vigre e Corinne Roger. Ha vinto il primo premio di questa categoria. Caccia alla colomba è la prima categoria realizzata da Silvano Avanzini. Roberto Alessandrini e Mario Vannucchi ci presentano la loro seconda categoria, l'anima del carro. Ha vinto il primo premio di questa categoria. Ecco la prima categoria di Giovanni Mangini, il signore del vento. Non invado è la città, non te l'amore è la prima categoria. Entra in Piazza Mazzini i Miracoli della Genetica, prima categoria di Raffaello Giunta. L'incubo mascherata isolata di Giuliano Rossi. Ecco la seconda categoria di Fabrizio Galli che ci presenta 2001, Genesi Carnevalesca. Ormai il corso è terminato. Tra poco si concluderà la sfilata e i fuochi d'artificio daranno l'appuntamento al Carnevale 1989. e la scelta è stata un'ottima controllo della Genetica. Grazie a tutti.